Dal 16 al 18 novembre a Torino, all'Oval dell'Ingotto, nell'ambito della quarta edizione del TOSM, il Salone Professionale dell'Information and Communication Technology, il CSI Piemonte, una delle principali aziende italiane dell'ICT, sarà presente nello stand della squadra ICT per competere, a fianco di Regione Piemonte e degli altri partner che lavorano all'attuazione del piano strategico triennale per l'ICT. Tecnici e professionisti del CSI incontrano il mondo delle aziende per rafforzare l'idea che l'ICT sia uno strumento per migliorare la pubblica amministrazione e la vita di tutti i cittadini, oltre a rappresentare una grande opportunità per rendere più competitive le imprese piemontesi. Il nostro ruolo è quello di contribuire all'innovazione, allo sviluppo organizzativo e tecnologico della pubblica amministrazione. Per far questo noi gestiamo risorse pubbliche. Il nostro modo di farlo è di trasferire poi alle imprese del territorio queste risorse attraverso un meccanismo di acquisti, di procurement, diciamo, innovativo e assolutamente unico in Italia, che è un meccanismo che consente di contribuire alla specializzazione delle aziende del territorio, alla loro distintività e anche di favorire le forme di aggregazione e di cooperazione. E tutto questo, noi riteniamo, consente a queste aziende anche poi di diventare più forti nel momento in cui vanno a competere sul mercato nazionale e internazionale. All'interno dello stand allestito all'Oval, il CSI presenta il Totem, un chiosco interattivo che funziona come sportello virtuale per usufruire di alcuni servizi pubblici digitali. Credo che anche qui ci siano soluzioni molto buone per aiutare il comparto a crescere. La madre di tutte le battaglie in questo tema per noi sarà l'informatica sanitaria o la sanità informatica. È una nostra priorità. Durante il Salone Tosm, il CSI presenta la sua azione a sostegno delle imprese. Più del 7% del Piemontese è prodotto dal comparto dell'ICT. Sono più di 100.000 gli addetti di questo settore. L'ICT, se cresce sotto la domanda pubblica, può ancora sviluppare nuove performance, nuove tecnologie, nuovi paradigmi e andare a competere su altri mercati. Perché quello che noi vorremmo proporre è che le imprese piemontese si specializzassero, crescessero insieme alla nostra pubblica amministrazione e poi andassero su altri mercati fuori dal Piemonte a vendere le proprie competenze.